le affermazioni fatte dall'ingegnere Tramontano. Ma per quanto di mia conoscenza e per quello che abbiamo messo in campo ecco da quest'ultimo periodo, minimizza il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone ritenendo che ciò che è avvenuto nella giornata di ieri non è altro che una tempesta in un grande bicchiere d'acqua. In quanto alle denunce effettuate dall'ingegnere Tramontano aggiunge il sindaco che qualora se ne rabbedesse la necessità, gli atti devono essere spediti tutti alla procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Prevista anche un'audizione del funzionario comunale da parte della commissione di indagine consigliare istituita da breve tempo con voto del Consiglio Comunale. E' una tempesta in un bicchiere grande d'acqua ecco diciamo perché in sostanza importante che magari ecco i nostri concittadini lo devono sapere che di queste note oramai la mia scrivania è piena da parte dell'ingegnere Tramontano e anche da parte di altri dipendenti e le abbiamo sempre preso fortemente in considerazione, ne abbiamo discusso, parlato al punto tale che io poi visto che non si arrivava ad una conclusione diciamo definitiva di quello che erano poi questi procedimenti richiamati anche in queste ultime note ho scritto al segretario generale per avere una relazione, per avere appunto dei chiarimenti e ancora di più ho chiesto al dottore Carbutti nel momento in cui avesse fatto una valutazione importante su tutte queste procedure di andare oltre, di mettere in campo poi quelle attività che sono successive quando ci sono dei fondamenti importanti, quando ci sono delle denunce effettivamente diciamo serie, di trasmettere tutti gli atti agli organi competenti, quindi Procura della Repubblica, Corte dei Conti, a chi poi spetta il compito per poter andare ad individuare eventuali responsabilità quindi diciamo nessuno ha preso sotto gamba niente, abbiamo messo in campo ogni qualvolta devo dire ecco noi come giunta ma anche come consiglieri comunali abbiamo messo in campo sempre delle verifiche quando diciamo l'ingegnere Tramontano ci ha sottoposto dei quesiti o ci ha allertati in riferimento a qualche sua valutazione rispetto a dei procedimenti, quindi sono ancora qui in attesa di avere notizie certe su quelle che sono le varie le varie problematiche, i vari casi che sono stati tirati fuori e sui quali poi ecco c'è l'opposizione che fa il suo corso giustamente e poi c'è l'opinione pubblica che fa le sue considerazioni. Però se alla fine ecco come dicevamo all'inizio è una tempesta in un bicchiere d'acqua bisogna dare conto in ragione diciamo di questo grande parlare di questo ulteriore fango che si vuole mettere in capo ai dipendenti comunali, in capo al comune di Pagani, in capo alla città di Pagani quindi ecco questo fa ritornare poi questo alone di incertezza sulla macchina comunale e questo ferisce tanto e dà tanto fastidio. Quindi se queste notizie non sono ecco così veritiere come sembrerebbe ma le responsabilità è perché andare a parlare di intimidazione, andare a parlare di calunniare in maniera così forte colleghi, segretari generali, altri dipendenti o il sindaco oppure gli assessori queste sono situazioni che vanno valutate, vanno valutate anche dagli organi competenti perché non è corretto e non è giusto e né tanto meno il sindaco o un dipendente comunale si può prendere la libertà in maniera così negativa nel trasferire addosso ad una comunità, addosso ad un gruppo importante di dipendenti comunali che fanno il loro dovere C'è l'avvocato e il segretario, sono queste le persone indicate dall'ingegnere della montagna? Sono responsabili di settore così come il segretario che è l'artifice massimo di tutta la macchina comunale andare ad additare queste persone significa che non è bello, ecco si crea poi una situazione Lei ha pensato a convocare l'ingegnere Tramontano e a chiedere le spiegazioni di questa lettera? Allora, con l'ingegnere Tramontano è difficile relazionarsi, ho cercato in tutti i modi di poter avere un rapporto sereno durante questi anni Grazie a tutti Grazie a tutti